L'illegalità, lo voglio dire con calma ma anche con fermezza, non è possibile. Non è possibile qui in via Vittorangeli, ma non è possibile in tutta la città. Via Vittorangeli, Rosta Nuova, Reggio Emilia, le 5 del pomeriggio. I protagonisti di questa scena sono vicini di casa. Da una parte una coppia di coniugi, dall'altra una signora di origine africana. Abbiamo scelto di non far vedere i volti degli aggressori, di non dire i loro nomi perché ad ora, nei loro confronti, non sono stati presi i provvedimenti dalle forze dell'ordine che però hanno ricevuto la denuncia della vittima. Il suo avviso invece, quello della destinataria, delle botte e di queste frasi, non ve lo mostriamo perché ce l'ha chiesto lei, un modo per tutelare i suoi figli, un quattordicenne che soffre di disturbi psichici, è una bimba di 9 anni. Però questa mamma singola e disoccupata, che abita in via Vittorangeli da circa un anno in un appartamento di Acer, vuole comunque raccontare quello che le è capitato martedì scorso e che è stato, dice, l'ennesimo episodio. Stava rincasando dopo aver accompagnato il figlio maggiore ad un percorso motorio per ragazzi e disabili. Con loro c'era l'assistente sociale che li segue. Questo uomo va incontro da me, dice che noi vuoi andare via qui a casa, che l'ace è portato l'astrato, che noi vai via. Io ho detto, se l'ace dà l'astrato per andare via, perché io non ho visto questo l'astrato. Lui ha messo là, fare così, con la piedi, cominciare a fare casino. La 41 anni è andata al pronto soccorso e poi dai carabinieri. Tutti i giorni loro parlano brutto male di miei figli. Sua moglie appena passano l'ascensore a mia porta, io sono pusa e i miei figli pusa, chiamano io cimia, negra. Così non ci riesco a andare avanti così. Immagini riprese dai residenti che poi hanno avvertito il consigliere comunale Dario De Lucia, il quale a sua volta ha consegnato il video alla Questura. Nei prossimi giorni, parallelamente all'indagine delle forze dell'ordine, verrà fatta anche una verifica da Hacer. Questo, per il senso di legalità, lo voglio dire con calma ma anche con fermezza, non è possibile. Non è possibile qui in via Vittorangeli, ma non è possibile in tutta la città.